Un podio, un quarto posto e una sesta posizione per le ginnaste della S di dimensione ritmica Federlibertas L'Aquila al campionato regionale Serie D a squadre di ginnastica ritmica che si è svolta al Palazzetto dello Sport di Lanciano. La direttrice tecnica Manuela Festa ha commentato la soddisfazione per la prestazione delle proprie ginnaste, alcune delle quali anche alla prima esperienza. Le squadre della S di dimensione ritmica Federlibertas L'Aquila sono state composte da Melissa Busilacchi, Melissa Centi, Bianca Robu, Beatrice Laglia, Alice Galeota, Elisa Prioli, Laura Villante, Cristina Cesareo, Maria Ianni, Maria Pizzo ed Elisa Scarsella. Tutte ragazze seguite con passione e professionalità dalle insegnanti Mara Iapadre e Natalia Serrano. Il prossimo impegno per la S di dimensione ritmica Federlibertas L'Aquila è previsto per il 14 aprile a Pescara al campionato regionale Silver individuale di ginnastica ritmica.